Antonella Clerici e Benedetta Parodi sono ormai da molti anni le regine dei fornelli nelle trasmissioni tv più seguite da una fascia di pubblico molto ampio. Ogni tanto qualche collega cerca di insidiare questo loro primato ma senza successo ed è proprio a queste colleghe che entrambe le conduttrici si sono rivolte con delle frecciatine durante la presentazione dell'ultimo libro di Benedetta Parodi al Salone del Libro di Torino. Proprio la Parodi che per ne ha condotto cotto e mangiato ora passato a testa Gelisio ha affermato di non aver più seguito la trasmissione perché ogni volta che le capita di guardarla diventa triste e quindi preferisce evitare. Una non troppo velata critica alla Gelisio che le ha di fatto rubato la conduzione. Sulla stessa linea anche Antonella Clerici che ha ribadito di essere stata lei l'iviatrice della prova del cuoco e di aver proposto lei stessa il format alla RAI. Questa forse mette un punto alla polemica creata tempo fa da Marissa Laurito che affermò di essere stata convocata per presentare il programma e poi scavalcata da Antonella Clerici.